Allora Gabriele, qui abbiamo il primo piatto preparato allo chef e stiamo provvedendo all'abbinamento del piatto. Dunque, è un piatto, chiaramente abbiamo una sostanza, sicuramente la liquidizia che è una sostanza aromatica, poi abbiamo il carciofo che è sempre un alimento un po' più difficile da abbinare e il guanciale. In questo caso, preferirei abbinarci una malvasia abruzzese, della cantina di Orsogna, appunto per contrastare sia la parte grassa del guanciale, ecco perché è un 14 gradi, quindi un alcol che poi va a pulire, a detergere meglio il palato, e poi aromatico perché chiaramente sia il carciofo che la liquidizia in particolare, da una vegetazione, va un po' a contrastare e ad abbinare meglio questo piatto. Perfetto, come temperatura di servizio? Questa temperatura di servizio in questo momento è 8 gradi circa e andrebbe abbinato anche 9-10 gradi, visto il grado alcolico del vino, quindi chiaramente più il grado alcolico che altro e più l'abbinamento. E procederemo nell'assaggio e verificheremo se questa cosa è la fine. Grazie Gabriella.